C'è anche l'Aquila negli studi per la lotta al Covid, in particolare l'ospedale San Salvatore, l'università e l'azienda biofarmaceutica Don Pe, che ha una sede anche in città, sono coinvolti in uno studio coordinato a livello nazionale dallo Spallanzani sull'uso di un farmaco a base di raloxifene sui pazienti affetti da Covid ma con pochi sintomi. Secondo lo studio il raloxifene può bloccare la replicazione del virus e dunque impedire la progressione della malattia. Inoltre per l'azienda farmaceutica l'uso del farmaco potrebbe avere un impatto positivo anche sul sistema immunitario. All'Aquila sono coinvolti nello studio 15 pazienti, come spiega il primario di anestesia e rianimazione Franco Marinangeli. Molti altri sono stati arruolati dagli altri ospedali coinvolti per avere un bacino ampio ed esaustivo per valutare in questa maniera la risposta e la tollerabilità del farmaco. Un altro aspetto innovativo è che si tratta di pazienti che vengono curati a domicilio e viene fatto ricorso alla telemedicina per valutare ogni giorno tutti i parametri, altra frontiera molto importante che apre al futuro. Lo studio è stato condotto su qualche centinaio di pazienti. Noi ne abbiamo arruolati finora 15 di pazienti domiciliari che sono stati seguiti per circa un mese, diciamo 15 giorni in maniera attiva e poi 15 giorni per il follow up, quindi per vedere eventuali conseguenze. pazienti di ultra quarantenni, quindi pazienti adulti, che appunto avessero avuto il contagio da Covid e fossero paucisintomatici. Significa almeno un sintomo che può essere la febbre, che può essere il mal di gola, che può essere una problematica, diciamo così, di anomalia del gusto. Ecco, è dell'olfatto. La cosa interessante e importante è che siamo stati inclusi in un gruppo di centri che sono i più importanti in Italia. Lo Spallanzani è l'ospedale, l'azienda Capofila, ma c'è anche il Monaldi di Napoli e tanti altri. Noi somministriamo, abbiamo somministrato il farmaco che si prende per bocca, peraltro, quindi in maniera assai tranquilla, è semplice, però noi stessi ricercatori non sappiamo se stiamo dando al paziente una dose singola del farmaco, una dose doppia o placebo. È l'azienda Monitor poi che ha tutti quanti i dati di tutti i pazienti e conosce cosa c'era dentro quella compressa a fare, diciamo così, le somme dei dati, a tirare le somme dei dati e quindi a evidenziare poi se questo farmaco è più o meno efficace, a quale dose, per evitare lo sviluppo di una sindrome complessa appunto da Covid.